11 settembre che sono 55 60 70 devo rimettere lo smatto messaggio 75 80 83 finalmente il mio piano oggi è un giorno qualunque un momento cosa è stato perché fa così caldo c'è del fumo aiuto aiutatemi mio signore proteggici aiutaci oggi era un giorno qualunque oggi qualcun altro ha scelto per me